Dopo tre anni Tiziano Ferro torna prepotentemente nel mercato musicale e senza scappare mai più, è il titolo del suo nuovo singolo inedito, che anticipa di qualche giorno l'uscita del suo nuovo album TZN, The Best of Tiziano Ferro, una raccolta dei suoi brani di successo, canzoni inedite e duetti. Il 25 novembre è il giorno dell'uscita ufficiale dell'album che si preannuncia l'ennesimo grande successo discografico del cantautore Rhythm & Blues di Latina. Il video musicale La Canzone Senza Scappare Mai Più esce dunque di venerdì 17. Toccando ferro, lo staff ed il cantautore hanno voluto evidentemente sfatare ogni superstizione e si apprestano a godere dell'acclamazione già iniziata dei tanti fan. Su iTunes il brano è già saldamente al primo posto e probabilmente vi sarà per parecchie settimane. Su YouTube invece è già stato pubblicato il video musicale nel canale vivo relativo al testo Senza Scappare Mai Più lyrics e sono già 400.000 le visualizzazioni raccolte nelle prime 24 ore. La discografia di Tiziano Ferro quindi sta per arricchirsi del sesto album. Senza Scappare Mai Più segue dopo tre anni l'album del 2011 L'amore è una cosa semplice e andando a ritroso Alla mia età del 2008 Nessuno è solo del 2006 111 del 2003 ed il primo capolavoro del 2001 intitolato Rosso Relativo album con cui Tiziano Ferro è diventato improvvisamente 100. Nel 2015 si prevede dunque un nuovo tour per la promozione del suo ultimo album. www.mesmerism.info.it www.mesmerism.info.it